Un quindicenne è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Fossò, al confine con Campo Verardo, frazione di Campo Nogara. Era a bordo dell'auto guidata dal nonno, che forse a causa di un malore avrebbe sbandato scontrandosi con un camion che trasportava merci. In auto c'era anche un'altra nipote. Il quindicenne è stato portato via con l'elisoccorso nell'ospedale di Padova, mentre gli altri feriti sono stati assistiti dalle ambulanze giunte sul posto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale che sta ricostruendo la dinamica. Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti per liberare i passeggeri dalle lamiere. La strada, attenuta non ottimale per la pioggia, è anche leggermente in discesa, quindi questo potrebbe aver complicato ulteriormente la situazione.